Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Oggi incontro particolare per diversi allenatori di Serie A che hanno avuto un confronto con Nicola Rizzoli per quanto riguarda episodi arbitrali accaduti in questa stagione Presente anche l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli che al termine dell'incontro si è detto soddisfatto di questo summit Il tecnico Emiliano ammette che ci sono stati diversi errori ma da questo confronto c'è stata chiarezza e si spera che le cose vadano meglio in futuro Per quanto riguarda la ragazza di Mr. Cincotta Domenica Albozzi arriva alla Juventus Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana le due compagni si ritrovano di fronte in campionato La classifica attuale dice Viola a quota 15 punti con una partita da recuperare e Bianconere a 17 Una vittoria dunque lancerebbe le Women's al secondo posto in attesa della sfida del Milan Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola